Il terremoto dell'Emilia non è cambiato l'editoriale del nostro direttore Baccialli dopo il dramma del centro Italia, l'appello di Rete Veneta per la sicurezza. Il generale di staff, le vittime del sisma, rinviata la partita del Padua contro la San Merodettese, l'orto botanico devolve l'incasso ai terremotati. L'idea attacca il sindaco, molti dubbi sulla variante del piano urbanistico attuativo a partire dalla cubatura dell'area su cui dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Padua. Castello dei Cararesi sarà la nuova piazza della città, il restauro delle mura e altre piste ciclabili, 9 progetti presentati a Renzi per un bando da 18 milioni. Anziani soli, la paura di non farcela negli anni della crisi, nuove patologie affrontate con il sorriso nella compagnia di altri nonnini al centro di Udino, di Padua. Giro in città il calottiere con la pistola sul cinturone, scatta l'allarme a Padua ma il suono vigilante si è accaldato che si è tolto la camicia. Si diverte a tempestari di telefonate il centralino dei Vigili del Fuoco, bimbo di 6 anni scherza con il cellulare di papà ma viene scoperto dalla polizia. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padua, dunque era il maggio del 2012, a poche ore dal dramma che sconvolse l'Italia intera, il terremoto dell'Emilia, la Rete Veneta lanciò un appello, mettere in sicurezza anche il nostro territorio. Ricorderete che la bassa padomana, soprattutto il loro digino, fu comunque colpito da quel sisma. Ecco, a distanza di diversi anni nulla è cambiato, cominciamo dunque da questo l'editoriale del nostro direttore Bacialli. Il 29 maggio del 2012 un sisma devastante colpì la pianura emiliana, fu un terremoto avvertito anche in Veneto, tra l'altro tra le molte città danneggiate, ci fu anche Rovigo che subì danni considerevoli. In quella circostanza Rete Veneta decise di prendere un'iniziativa, quella di mettere in sicurezza i capannoni del Veneto e del nord-est, perché si constatò che gli edifici che crollarono in Emilia Romagna furono soprattutto quelli, i capannoni industriali, molte piccole e medie imprese che furono ridotte in briciole da questa scossa, da questa prima scossa davvero terribile, ci furono all'epoca anche morti e feriti. Ne parlamo con il Presidente Luca Zaia, l'idea era stata quella dell'ingegnere Giovanni Iannacopoulos, il nostro editore, se ne parlò con la Regione, si fecero diversi incontri con tecnici, con i contabili della Regione del Veneto e alla fine l'iniziativa non mandò in porto perché si disse che una legge regionale che prevedesse da parte degli imprenditori un contributo per mettere in sicurezza le proprie imprese sarebbe stata vista come un ulteriore balzello, come una tassa e erano momenti, d'altra parte come quelli attuali in cui parlare di tasse o comunque di contributi in più, questo proposito poteva sembrare una provocazione. Allora la cosa si fermò, ci furono anche altre iniziative, partecipiamo a un incontro con nove banche e lo stesso Presidente Zaia per vedere di varare una polizia assicurativa che consentisse a tutti di mettere in sicurezza anche le proprie abitazioni con una spesa modesta, ma anche lì non ci furono poi dei risultati concreti perché tutto in Italia poi finisce un po' in cavalleria. Oggi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha annunciato che il Governo sta verificando le possibilità del cosiddetto piano Casa Italia che è proprio la stessa cosa che avremmo voluto fare noi qui in Veneto e speriamo che a questo punto tutta l'Italia a rischio venga messa in sicurezza. Speriamo che il Governo vada avanti, oltre a stanziare dei soldi dopo il terremoto, si faccia finalmente prevenzione perché è quello che manca in questo Paese. Noi ci disperiamo a cose fatte quando c'è la catastrofe, poi la ricostruzione, ma no, possiamo, si può intervenire preventivamente per evitare questi disastri. Guardate Norcia, Norcia aveva già subito un terremoto, era stata messa in sicurezza, ha subito danni irrilevanti rispetto alla catastrofe di accumuli e soprattutto di amatrice e si contano purtroppo quasi 300 morti, speriamo che non si arrivi, che il bilancio delle vittime si fermi lì. Quindi noi continueremo, adesso riproporremo a livello regionale questo piano, speriamo che i parlamentari del Veneto si diano da fare per sollecitare il Governo a varare queste misure, ma non solo a parlarne, a prometterle, a farle, in modo che davvero dovesse capitare quello che è successo ad altrove ed è probabile che prima o poi succeda qualcosa su questa dorsale appenninica che poi porta anche verso la nostra regione, il Basso Veneto, oltre che le zone del Bellunese che sono a lì. Insomma, si faccia di tutto perché nel caso malaugurato in cui ci possa essere un sisma, qui ne abbiamo avuto uno terremendo, il Friuli Venezia Giulia, ricorderete, nel 1976, non ci siano il numero delle vittime, dei feriti e il disastro che abbiamo visto in questi giorni. Quindi aiutateci anche voi a portare avanti questa iniziativa. e intanto scopriamo che Padova è protagonista in queste ore di soccorso e solidarietà. Vive a Padova, il medico che ha salvato la piccola Giorgia, quel video ha fatto il giro del mondo, lei però ha perso sotto le macerie la sorellina. L'angelo di Giorgia si chiama Nicola Bortoli, medico mestrino da tempo, residente a Padova. È stato lui a dare indicazioni ai soccorritori per mettere in salvo la piccola di quattro anni dall'inferno che trema a Pescara del Tronto. 17 ore sotto le macerie, il capo squadra dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino, tra le lacrime, ha detto solo che ora spera lei possa dimenticare tutto. La sorellina di nove anni invece è morta per la prima violentissima scossa che ha devastato la provincia di Rieti. Padova, dopo l'invio degli psicologi, dunque è determinante in queste ore per l'operazione di soccorso. Il rettore del Borizzuto ha stabilito che l'intero incasso delle visite dall'orto botanico da martedì 30 e per due settimane sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto. Biglietto per di più ridotto a 5 euro per attirare più turisti. Intanto nel pomeriggio è arrivata la conferma della Lega Pro del rinvio del match San Benedettese Padova previsto per domani come stabilito dal prefetto di Ascoli per la concomitanza dei funerali di Stato. Una delegazione di Ultras, biancosculati della Fattoria, confermato però la trasferta, divenuta ora esclusivamente solidale dopo aver raccolto medicinali generici. Aspirine, cicatrizzanti, disinfettanti e cerotti che possono essere consegnati anche domani mattina alle 8 prima della partenza dal Parc dello Stadio. In questo caso qua mi sembra di fare un'iniziativa che hanno intrapreso a favore, diciamo, della partenza che sono sensibili e anche solidarie quando hanno ripreso i giusti dei primi e quindi in questo caso avevano già chi. Fondiamo adesso alla politica in città invece al Partito Democratico. I conti non tornano in riferimento a quello delle aree del nuovo ospedale. Il nuovo ospedale, che secondo i piani del Sindaco Bitonci dovrebbe sorgere nell'area di San Lazzaro a Padova Est, rischia di diventare un ospedaluncolo che andrebbe ad aggiungersi e non a sostituire quelli già esistenti. È la domanda che si pone il Partito Democratico cittadino analizzando la variante al piano urbanistico attuativo. Molti punti poco chiari a partire dalla viabilità attorno all'area. Viene realizzata una viabilità principale che dovrebbe essere a sostegno del nuovo polo ospedaliero ma che ci sembra molto più a sostegno dell'edificazione dei privati che invece di pagare il 50% dell'opera se la cavano a basso prezzo cedendo solo 14.000 metri quadri che così sarebbero valutati a più di 250 euro al metro quadro. Poi c'è un'altra questione, quella della compatibilità idraulica. La valutazione ambientale deve essere rifatta prendendo in considerazione non solo l'impatto dell'area edificata dei privati ma anche di quello che verrà realizzato a fianco e quindi di 800.000 metri cubi che sono i metri cubi previsti per il nuovo polo ospedaliero. Quello che ci preoccupa di più è però che anche con l'area ceduta dai privati per realizzare il nuovo ospedale sommati ai 200.000 metri quadri di proprietà del comune arriviamo a 300 120.000 metri quadri. Molti meno di quelli richiesti dall'università che aveva imposto come condizio sine qua non per l'accordo sull'area proprio la cubatura inizialmente prevista di 470.000 metri quadri. Secondo il PD ora si arriverebbe a 328.000 metri quadri, 200.000 sono quelli messi a disposizione dalla comune di Padova e 128.000 l'area ceduta dai privati. Il sindaco di fronte è un'opera che impegnerà mezzo miliardo di fondi pubblici, la più importante opera pubblica dal dopoguerra probabilmente per la città. Come mai non ritiene di poter convocare, come noi abbiamo chiesto, un consiglio comunale straordinario? Intanto per Padova i progetti ci sono, ce ne sono altri, li ha annunciati oggi l'amministrazione e chiedendo così anche 18 milioni al governo Renzi. Padova vuole diventare smart e per farlo la Giunta ha approvato 9 progetti per presentarli e ricevere 18 milioni di euro dal bando del governo Renzi per le periferie. L'amministrazione sta lavorando da mesi su questi progetti che rientrano sotto il nome appunto di Padova Smart City. Questa è la risposta a chi dice che non c'è una progettualità in città, dice il primo cittadino. 9. I punti di intervento messi in cantiere il restauro del Parco delle Mura, le piste ciclabili di via Canestrini e via Bembo, il restauro del Castello dei Carraresi, la scuola Montegrappa da ristrutturare, le due palazzine Liberti di Piazzale Boschetti per cui sono stati chiesti 7,3 milioni di euro, Parco Boschetti e la sistemazione di via Morgagni chiesti 2 milioni di euro, Parco del Basso Isonzo chiesti 300.000 euro, l'implementazione della videosorveglianza in città chiesto 1 milione di euro e infine un progetto stilato con il Petrarca Rugby per le nuove strutture, campus e foresterie in via Gozzano. Particolare attenzione al Castello Carrarese che nei piani dell'amministrazione sarà una nuova piazza per i padovani in cui sarà inserita la cittadella della scienza e della tecnica. I progetti sono già finanziati, sottolinea il sindaco, sfidiamo Renzi a contribuire allo sviluppo della città. Ora un giro in provincia, cominciamo la Villanova di Campo San Piero, rapina di anziani, nuove accuse per i Roma arrestati qualche settimana fa. Villanova di Campo San Piero, sono accusati di altri colpi e danni di anziani, tre nomadi giostrai arrestati dai carabinieri lo scorso 11 agosto. La famiglia di Roma avrebbe rapinato altri 5 anziani in provincia di Treviso, sempre con la tecnica dell'abbraccio. La loro posizione dunque sia grave, i carabinieri hanno notificato in carcere una nuova misura cautelare. Il cane dei Rom sfugge ai due padroni e aggredisce un ciclista, Legnaro. Legnaro, in bicicletta con il nipote, viene aggredito da un dog argentino sfuggito al controllo di due minorenni, ferito un 59enne che stava facendo una passeggiata con il nipotino piccolo. Il cane si è avventato sulla gamba dell'uomo che ha faticato molto prima di liberarsi, fortunatamente riuscendo a rimanere in sella senza cadere a terra e senza mettere in pericolo il piccolo. Il cane era sfuggito due ragazzini nomadi che vivevano a poca distanza dal luogo dell'aggressione. L'intera famiglia è stata denunciata. Un pregiudicato tunisino tenta di scavalcare un cancello e una precipita nel vuoto. Padova, volo di 4 metri mentre tenta di scavalcare il cancello che porta ai garage sotterranei dei grattacieli della cittadella di via Pertini alla Stanga. Ferito gravemente un pregiudicato tunisino. Non è chiaro se l'uomo, 33 anni e senza fissa dimora, volesse entrare per rubare all'interno dei box auto oppure sarà solo alla ricerca di un luogo dove trascorrere la notte. È stato identificato dai carabinieri e portato in ospedale dove si trova tuttora ricoverato per le gravi ferite. Tempesta di telefonate al centranino del 115 e poi scoprono che è un bambino di 6 anni. Un pomeriggio senza poter giocare con l'iPad della papà e così un bimbo di 6 anni ha deciso di divertirsi con il cellulare del genitore al centralino dei vigili del fuoco. Per un'ora sono così arrivate decine di telefonate anonime, tanto che i pompieri hanno pensato che si potesse trattare di qualcuno in difficoltà che non riusciva a parlare. All'altro capo del telefono però c'era il bimbo di 6 anni che è stato rintracciato localizzando il cellulare. Quando la polizia si è presentata a casa dei genitori, ignari di quanto stava accadendo, il piccolo ha subito intuito che lo scherzo aveva superato il limite e mortificato ha chiesto scusa agli agenti. Restiamo in città, c'è un uomo che gira in canottina ed è armato di pistola in via Beato Pellegrino. Due segnalazioni arrivate in pochi minuti, ieri pomeriggio al 113, sul posto immediatamente i poliziotti delle volanti, della Digos e delle squadre speciali antiterrorismo. Ma dell'uomo nessuna traccia. Fortunatamente un testimone aveva annotato il numero di targa dell'auto da cui era sceso il personaggio sospetto. Gli agenti sono così risaliti alla sua identità. Una guardia giurata che abita in quella zona. Quando lo hanno rintracciato a casa hanno trovato ancora in canottiera. La camicia ha detto me la sono tolta a fine turno perché ha caldato, dimenticandosi di avere la pistola in bella mostra. Una leggerezza in questo periodo di grande paura per il terrorismo. I poliziotti hanno trovato la pistola sopra il tavolo e così hanno disposto il sequestro cautelativo dell'arma. Non è il modo corretto di trattarla evidentemente. Oggi a linea diretta abbiamo parlato di anziani, delle tante iniziative della cooperativa FAI che affronta anche in questo momento di grande crisi una sorta di nuova patologia. Cambiano anche le problematiche degli anziani. Noi dicevamo che rispetto delle accoglienze passate abbiamo molti più disturbi ad esempio del comportamento. Quindi abbiamo altri tipi di patologie. Per cui avremo sicuramente bisogno... Devuto a persone che sono rimaste sole? Cosa intende? Certo. La solitudine, la crisi economica. Cioè sono tanti fattori che si stanno sommando e che ci stanno portando a queste situazioni. La crisi economica è diventata una patologia per alcuni di questi anziani. Mettiamola così. È diventata un aggravante direi io di certe situazioni che già potevano essere critiche. Per cui sicuramente un sostegno maggiore da parte dell'istituzione. Inutile che lo dica che possono essere non solo l'amministrazione comunale ma vuole essere anche una regione a noi sono quasi necessari. In cosa si manifesta questa difficoltà? Io ho chiamato patologia, chiaramente è sbagliato, la patologia dovuta alla crisi economica di questi anziani. Direi che come in tutti i tempi storici, nel momento in cui c'è probabilmente una problematica più importante anche a livello economico, c'è anche più solitudine, c'è meno possibilità di dare un aiuto e quindi è in quel momento che tu fai la differenza. Non nascondiamoci, e questo posso anche, Stefano può anche testimoniarlo, che in alcune volte noi ci sopperiamo un po' anche la parte pubblica perché dove c'è bisogno e vediamo che c'è l'utenza che ha bisogno, diciamo bene, lo facciamo noi. Anche per quell'utente che potrebbe già essersi allontanato magari dal centro, ma che ci preme seguire anche dopo. Il Veneto in Friuli Venezia Giulia rischio terremoto, questa sera a Focus, ospiti del direttore Luigi Baccelli, dalle 21.05 saranno Giorgio Santini, Emanuela Lanzarin, Ivan Palasgo, Michele Favero, Marco De Blasis, Patrizia Peretti, Pietro Zangheri. Come al solito aspettiamo i vostri sms. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito e buona serata.